Ciao! Oggi Mr. Risparmio e Levi Qualità vanno a nozze! Festeggiamo assieme questo evento! Noi ci mettiamo tanti prodotti di altissima qualità con un risparmio da numeri 1. Tu cosa aspetti? Passa a trovarci a Busche o a Signoressa? E se abiti lontano puoi comprare anche online www.passport.it Ciao! Grazie!